salve a tutti amici del canale di Arbe82 buon pomeriggio partiamo con una nuova recensione ragazzi come feci qualche video fa feci vedere la mia mini collection di Transformers classic adesso vi porto sul canale questa mia mini collection sempre di Transformers però della serie Animated ecco qui ragazzi la serie Animated fu trasmessa per la prima volta nel 2007 in Italia fu trasmessa invece l'anno successivo è una serie composta da tre stagioni da 43 episodi in totale però in Italia furono trasmesse solamente 29 episodi ragazzi peccato perché la serie era molto carina e ve la consiglio di recuperarla perché è molto bella ragazzi anche se diciamo i disegni a quei tempi quando c'è quella serie disegni molto diciamo cartuneschi per noi vecchiotti abituati a vedere i Transformers in un altro stile era molto diciamo così e così almeno per me eh però devo dire che la Hasbro eh a quei tempi lì cioè nel 2008 eh sfornò queste bellissime action figure ragazzi la Hasbro invece a livello di action figure questi Transformers Animated fece davvero un bel lavoro infatti io ne ho quante due 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 tre quattro cinque sette sette autobot della serie medesima ragazzi adesso vediamo un po piano piano ogni singolo personaggio e poi lo trasformiamo come al solito devo partire dal leader degli autobot ecco qui amici ecco qui il mitico Optimus Prime in questa versione camion dei vigili del fuoco molto futuristica e queste tutte queste versioni sono le versioni in modalità terrestre perché le servo eltroneane erano diverse solo che erano molto diciamo futuristiche come design e niente qua ecco qui guardate che carino questo è un dovrebbe essere ma non mi ricordo bene un classe Voyager ecco qui il nostro Optimus Prime in modalità track fire track questo adesivo io l'ho messo io perché è originale amici non vi preoccupate è originale solo che questo Optimus Prime non gli stamparono il logo autobot non lo so come mai comunque eccolo qui il nostro leader degli autobot e passiamo al mitico Bumblebee che è una una mini macchina automobile da città eccolo qua con i suoi colori classici ecco qui anche se questa lampeggianne sopra peccato che qui mi si è danneggiato sinceramente non ricordo come diavolo ho fatto però andate qui naturalmente c'ha questi due super reattori missili come volete chiamarli ecco qui il suo classico colore giallo con strisce nere ed eccolo qui ragazzi passiamo al Transformer successivo vediamo il grandissimo Ratchet eccolo qui Ratchet versione Animated sempre un'autoambulanza però con sto colore molto strano sto grigio e bordeaux eccolo qui sempre un veicolo di emergenza era il più anziano tra gli autobot se non sbaglio ed eccolo qua insieme a lui ci sono anche questi quattro accessori che non sono altro che i suoi attrezzi del lavoro ecco qui martellone sta chiave inglese eccolo qua si vede questa sorta pure di pinza qua di tenaglia e il cacciavite eccolo qua poi vediamo anche il mitico jazz come non riconoscerlo dai suoi classici colori eccolo qui ecco qua il mitico jazz che è una sorta pure di porsche modificata qua con i marmittoni laterali guardate che poi questi qua diventano le sue armi che era un autobot ninja insieme a prowl che dopo vediamo ecco qua il mitico jazz ecco qui vediamo proprio prowl eccolo qua ragazzi questo in questa serie animata qui diciamo che mi sembra proprio che fu la prima serie animata dove prowl cambiò totalmente alt modo non era più un auto della polizia ma divenne una motocicletta della polizia vedete qui ci sono gli avvengianti blu e rosso eccolo qua il mitico prowl che io adoro peccato che mi sembra che alla fine degli episodi ho letto che si sacrifica pure il mitico prowl ecco qui mettiamolo qui se non cade speriamo che non cade poi vediamo il re ecco qua il re dei dinobots il mitico grimlock versione animate ecco qui classe leader se non sbaglio pure questa spese di gimmick e qui ecco qua molto buffo devo dire la verità in versione t-rex eccolo qua si vede anche il video sotto peccato potevano fare un'altra pannellatura qui inventarsi qualcosa per coprirlo però vabbè adesso è questo qui ha la terza che ci si vede anche con l'epoca in azione vabbè quindi questa è la sua spadona eccolo qui tutta fiammeggiante che premendo il tasto qui dentro Ba ecco qua le fiamme si spregionano e poi vediamo ragazzi l'ultimo arrivato lo sono tenuto per ultimo il ciccione il gigante buono di tutta la serie animated facciamo largo a volker eccolo qui il medico ciccio bombo uno dei transformers più forti della serie eccolo qui ragazzi nella sua modalità mezzo militare corazzato super armato con i missili laterali con la torretta qui a cannone qua con i cannoni ecco qui ho messo anche le batterie per farvi sentire un po è pesantissimo ragazzi lo metto qui sentire l'effetto sonoro one two three di tutto di più eccolo qui ragazzi veramente fighissimo ho atteso di fare per fare questo video proprio perché volevo un bulkhead finalmente l'ho trovato di seconda mano e logicamente qui c'è il logo autobot si vede e poi è uscito questo accessorio che bu non ricordo proprio cosa sia sembra un led master ecco questa sorta di testona eccolo qui se voi sapete in cosa si tratta che non mi ricordo ragazzi scrivetelo in un commento ma bando alle ciance ragazzi è arrivato il momento di trasformare un po questi signorini qui ragazzi iniziamo da grimlock ed ecco qua ecco qua facci avere altra carrellata ecco qui il nostro leader del dinobot versione t-rex ma non perdiamo tempo e trasformiamo no andiamo un po come si fa perché un po impacciato come al solito tata si divide la coda qui si stacca il tutto così questo qui la coda va lateralmente qui così tac e tac e se qui le gambe si mettono così questo pezzo qui si incira così adesso qui così tac tac la testa del t-rex le zampette qui vanno una testa all'indietro questa parte del busto sale così tac ecco qui il nostro green block sta prendendo forma la testa del dinosauro la testa del dinosauro va qui dietro così tac tac le zampe diventano così così diventano le mani e le braccia ecco ecco così e voilà il gioco è fatto ragazzi primo transformers serie animated trasformato ecco qui il nostro il nostro grimlock tiran ecco qua eccolo qui amici vediamo un po se focalizza eccolo qua c'ha questa mascella tipo trap joe dei masters ragazzi vedete ed eccolo qua mi piacciono molto le mani fatte così mi piace molto questo grimlock proprio la parte delle braccia mi piace tanto ecco qui il nostro grimlock mettiamo la sua spada la sua spada uno qua ecco qua ecco qua ecco qua il grimlock ed ecco qui il nostro grimlock passiamo avanti ragazzi secondo autobot è il turno del piccolo bumblebee ragazzi ho passato un po' la luce vediamo se focalizza un po' di meglio perché mi sto dannando sinceramente eccolo qui leggera carrellata eccolo qui partiamo subito subito ragazzi allora vediamo un po' stacchiamo il tutto qui tutto tutto si stacca tutto qua questa parte del portellone questa parte qui dei piedi questo qui si gira si abbassa così eccolo qui questo qui questo qui a parte del parabrezza si gira così 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 eccolo qui più o meno le gambe si sono formate questo si è staccato qui però si rimette senza problem alziamo il busto così lo giriamo ecco qua questa parte qui va dentro facciamo le mani ecco qua è uno è due questa parte qui è un po' più dritto così ecco qua questa parte qui è un po' più dritto così ecco qua questa parte qui è un po' più dritto così ecco qua uno e due ed ecco qui il nostro piccolo maggiolino un tempo eccolo qui ragazzi guardate che simpatico vediamo si focalizza oggi proprio questo telefono è proprio una cacchina eccolo qua il nostro bumblebee il robot mode ecco qui e poi c'è un'arma qui si chiude si abbassano le mani si mette così ecco qua questa sorta di di arma mi sembra che che sparava pure se non ho sbaglio eccola qua ecco qua ecco qua facciamo rientrare eccolo qui eccolo qui il nostro b è pronto ecco qua ecco qua ragazzi passiamo allo transformers successivo terzo autobot è il turno di jazz eccolo qui e voilà allora facciamo prima cosa strac trac dividiamo le gambe eccolo qui voilà è uno è due facciamo uscire i piedini e non ci riesco come a solida eccolo qui servono le unghie perché io no no le unghie ecco qua poi lasciamo fuori uscire le braccia questo pannello qui lo abbassiamo dopo braccia uscite uscite questo va così ecco qui è uno è due questi pannelli qui si girano così così ed ecco qui il mitico jazz ecco qui il nostro bellissimo alabat si riconosce benissimo come ho detto prima dai colori ma anche dal suo visore eccolo qua vedete il suo classico visore eccolo qui e niente vedete che qui sembra che c'è una sorta di tuta invece di essere robotico sono molto umanoidi questi transformers animati soprattutto nel cartone animato ragazzi sembrava veramente che indossassero delle tute alcuni robot però le action figure devo dire che sono veramente carine e qui qui il nostro jazz prendiamo quest'altro perché quest'altro è un po' così e così il nostro jazz nasconde in un ciaco lateralmente ecco qui ecco qui il nostro jazz il nostro jazz super armato ecco qua ecco qua il nostro mitico jazz in tutto il suo splendore e partiamo ragazzi vado un po' più veloce perché sennò dura un'eternità il video partiamo con la quarta transformation dopo jazz non potevo partire che con prowl ecco qui il nostro motocicletta eccola qui ecco qui il nostro prowl e incominciamo su facciamo così stac 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 ecco qui piano piano senza scassare niente perché sono un po' vecchiotti eh e allora ecco qui qui si apre questo portello dove c'è il faccione del nostro tac il nostro prowl questo così così questa parte qui un braccio così così un braccio sale su così questo così e le gambe ruotano così così ed ecco qui ragazzi il nostro mitico prowl bello che trasformato ragazzi questo è proprio uno dei miei preferiti questo design di prowl io lo trovo veramente fantastico proprio 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 bello ecco qui come al solito non focalizza ragazzi scusatemi ma purtroppo il telefono è proprio una cacca e non so veramente come fare devo comprare una videocamera assolutamente se voglio continuare eh che ti devo dire adesso ecco qui il nostro prowl super 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 articolato ragazzi questo è proprio un ningione nel cartone animato fa mille mosse velocissimo eccolo qui e poi la cosa figa che nelle ruote c'ha i suoi shuriken i suoi lame rotanti vedete qua così un attimo e dentro qui voilà ecco qui i lame rotanti di prowl e anche c'è anche di qua vedete ragazzi è fighissimo spettacolare il nostro prowl con la sua gimmick veramente una figata francesca ecco qui il nostro prowl e adesso passiamo al successivo step successivo passiamo alla nostra guardia medica qui il mitico ratchet ecco qui ufficiale medico e partiamo con la sua transformation allora così questi due pannelli laterali così si stack questa parte qui dietro e si mette per il momento così le gambe scivolano in avanti si staccano tutte e due così i piedini se riesco ma non riesco mai come al solito devono uscire fuori ecco qua è uno è due ecco qua poi 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 questa parte qui delle braccia riesce ecco qui si allungano tac e tac ruotano così ecco qui c'è la gimme la i ratchet proprio come il suo nome sono molto molto duri ecco qui ecco qui sentite qua tac tac ecco qua ci giriamo le braccia così ecco qui le mani ecco qui si mette così questo è il panzone e poi tac ecco qui il nostro medico e se non fosse per lui vorrei vedere proprio come gli autobot si riparassero ecco qui ragazzo guardate qui che figata il nostro ratchet con una sorta di panza pure lui eccolo qui adesso si mette ovviamente così si 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 mette così ecco qua poi vediamo che c'ha queste aggeggi qui che mi sembra che emanavano scariche elettriche proprio per aggiustare rinvigorire i suoi amici ed ecco guardate qui che carino il nostro ufficiale medico bello 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 poi ci sono vedete qui queste parti questi peg neri qui possiamo inserirci le sue armi le sue le sue i suoi i suoi attrezzi del lavoro ecco qui se volete io li metto sempre proprio per non perderli i suoi amici ed ecco ed eccole qua così e così ecco qua questo qua in giro il martellone lo giro così ecco qua il nostro ratchet è pronto per medicare a qualche malcapitato autobot ecco qua bellissimo il nostro doc passiamo al successivo ragazzi penultimo transformers adesso è il turno del nostro optimus prime eccolo qua carrellata veloce bellissima togliamo prima cosa questa che il suo fucile togliamo il secondo anche quest'altro che poi diventerà la mitica ascia del nostro optimus prime ed ecco qui il camion solamente il camion ecco qua e allora ragazzi partiamo stacchiamo questa parte qui si abbassa e si stacca così le ruote le stacchiamo anche le gambe qui le ruote le inseriamo all'interno qua qua adesso qui le abbassiamo così 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 ecco qua i piedi così e poi qui c'è chissà se funziona ancora c'è una sorta di marchigine che se si preme ecco qua dovrebbe girare così e il bus di optimus si raddrizza poi facciamo il click così per bloccarlo tac ecco qua allunghiamo le gambe così e così il nostro optimus sta prendendo letteralmente forma poi stacchiamo questi pannelli neri qua e qua mettiamo fuori le braccia come solito fare con le trasformazioni di optimus lo chiam un po' mettiamo la mano fuori si aggancia questo pannello nero qua e voilà il nostro è uno qua facciamo anche qua facciamo qua allunghiamo un po' le braccia ecco qui poi apriamo questa parte qui facciamo fuori uscire la testa e questa parte qui va quasi dietro vedete che si vede e il nostro optimus prime è pronto al combattimento ragazzi ecco qua il nostro leader degli autopot è sempre più bello ragazzi è sempre il più bello il più figo non c'è niente da fare eccolo qua vedete che il viso non ha la mascherina classica vedete c'ha la bocca poi c'è una levetta dietro non ha la testa dove tac ecco il nostro optimus è completo con la sua classica maschera ecco qui ragazzi veramente fighissimo il nostro leader degli autopot mettiamoci l'arma qui e lascia mi faccio lascia qui ecco qua ecco qui il nostro optimus prime armato fine denti però questa ascia secondo me è troppo grande non è che mi garba tantissimo infatti lo tengo esposto solamente con la sua arma di fuoco ecco qua il mitico optimus prime ragazzi adesso passiamo finalmente con l'ultima trasformazione ultimo step ragazzi ecco qua finalmente allora prima cosa togliamo questi missili che sennò cadono e voilà poi stacchiamo questa torretta qui ecco qui ho fatto saltare tutto un attimo su ecco qui torretta rimessa non ci vuole niente se la stacca solamente perché è molto molto duro poi dividiamo il tutto così ecco qua mettiamo per il momento così e così tac tac ed ecco che compare subito il faccione del nostro bulkhead eccolo qua poi 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 giriamo questa parte così dove c'erano i missili ecco sì apriamo tutto il pannellone qua abbassiamo i piedoni e le gambone mettiamo tutti in avanti così stac 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 mettiamo i piedi così e e così ragazzi è davvero un cicciobombo enorme questo lo rimettiamo dopo rientriamo facciamo rientrare le ruote così e così all'interno poi 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 vediamo un po' che tocca fare ci sono questi pannelli qua che si alzano così e così questa parte qui del busto va in avanti così vedete e si rialza si stacca tutto e va in avanti così poi facciamo uscire le braccia fuori così giriamo tutto l'ambaradan ci c'è cocco e agganciamo questo peg qua in questo buco qua tac e uno un braccio è fatto così e facciamo stessa cosa così abbassiamo il tutto giriamo peg stac stac ecco qui guardate che ratchet che c'è e e e poi chiudiamo queste ruote così e così solleviamo qui slittiamo sopra così questi si abbassano così sì eh poi e adesso qui si abbassa così questi pannelli pure si abbassano così e così questi qua si staccano così e così e si alzano così adesso adesso gli rimetto questo pannello qui ecco fatto si gira il tutto così questi vanno inseriti così così e e così ed ecco che il nostro bulkhead è bello che pronto mettiamo un po' più avanti le caosce perché è veramente pesante inseriamoci di nuovo i missili uno qua uno qua uno qua uno qua e l'altro qua ecco qua credo che sia pronto non manca niente ecco qui ragazzi il nostro bulkhead veramente fighissimo gimmick elettronico qui sul petto ecco qua ed ecco qua poi c'è un altro gimmick qui dove c'è la sua sega elettrica con questa levetta qui gira il suo flessibile diciamo e qui con quest'altra levetta qui apre e chiude la sua mano pinzosa vedete è veramente uno spettacolo questo bulkhead e mi mancava proprio in collezione ragazzi adesso passiamo allo step finale con i saluti sono giunto alla parte finale ragazzi e che dire ragazzi prima cosa scusatemi per per la qualità dell'immagine ragazzi veramente perdonatemi ma per il momento io più di questo non riesco a fare vi prometto che migliorerò col tempo ragazzi speriamo molto presto e niente ragazzi e spero che questo video vi sia piaciuto se volete iscrivetevi al canale come al solito lasciate un like se volete cliccate la campanella scrivete un commento sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questi bellissimi modellini fatemi sapere se anche voi li possedete e qual è il vostro preferito e soprattutto che cosa è questo che non mi ricordo eccolo qui però l'ha lanciato il suo shuriken mettiamolo qui e niente ragazzi ci vediamo il prossimo video arrivederci da me ARB82 e dei mitici Autobots della serie Transformers Animated arrivederci